La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici Allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono Credo di aver avuto una buona idea Quello che ha fatto di Facebook I nostri gruppi Un milione di dollari non conta Sai cosa conta? Un miliardo L'accusa è di violazione delle norme di sicurezza Violazione del copyright Violazione della privacy Il suo migliore amico le ha fatto causa per 600 milioni di dollari Non lo sapevo, ma che notizia The Social Network Dal 12 novembre al cinema